Per raccontare Follonica Gavorano Flaminia basterebbe un'azione, questa che cade all'ottantaduesimo minuto quando il capitano del Follonica Gavorano Fabrizio Losicco incappa in uno scontro di gioco che lo porterà dritto al pronto soccorso. Sembra inequivocabilmente fallo ma non per l'arbitro Vittorio Palma di Napoli il quale lascia correre e permette a Sirbu di involarsi verso la porta maremmana e segnare il gol decisivo di quello che di lì a poco diventerà il successo per due reti a una del Flaminia Cività Castellana. Una partita in cui i viterbesi avevano azzeccato l'assetto tattico migliore, un 5-3-2 scogitato soprattutto per non prenderle ma poi rivelatosi capace di ingolfare bene a centrocampo le manovre della squadra metallifera tant'è che dopo il palo colpito da Pino al primo minuto di gioco i ragazzi di mister Marco Masi non si erano fatti nel primo tempo più pericolosi ed anzi erano stati costretti a capitolare al 42esimo su questo corner battuto proprio da Sirbu con l'attaccante Moldavo che rivendica per sé la paternità del gol del vantaggio del Flaminia ma rispetto al quale hanno forse un ruolo su fronti opposti Zini e il difensore centrale dei viterbesi Lozito. Di sicuro c'è che il primo tempo si chiude con gli ospiti in vantaggio per 1-0. La ripresa si apre con una svista arbitrale poco rassicurante, un fallo su Scartoni non ravvisato dal direttore di gara quando scocca il 49esimo con il difensore metallifero che si era messo in luce in fase offensiva. Il follonica Gavorano comunque prova a fare meglio del primo tempo e va vicino in effetti al pareggio al 61esimo con un tiro da fuori scoccato dallo Sicco, De Fazio, De Via in calcio d'angolo. Al 77esimo l'arbitro concede un calcio di rigore ai maremani punendo questo fallo di Borgo su Pino. Dal dischetto è proprio Lo Sicco a realizzare il gol dell'1-1. Sembra che l'inerzia della partita possa a questo punto volgere in favore del follonica Gavorano ma all'82esimo arriva all'episodio clou dell'intero match con Lo Sicco che subisce fallo ed esce in in direzione pronto soccorso. Finisce 2 a 1 per il Flamini. Al termine della gara il follonica Gavorano decreta il silenzio stampa più assoluto come forma di protesta verso l'arbitraggio.